Il Comune di Giara è escluso clamorosamente dai cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Sicilia. La notizia in questi giorni ha suscitato apprezzione, soprattutto in quei numerosi disoccupati che riponevano le proprie speranze sulla possibile pubblicazione del bando per il reclutamento dei lavoratori, dopo che nel marzo scorso l'amministrazione aveva fatto sapere di avere trasmesso all'assessorato regionale della famiglia l'apposita nota di manifestazione di interesse. Sui social intanto non sono mancate reazioni di aperto dissenso e molti hanno anche accusato il Comune di non avere partecipato al bando, chiudendo ogni opportunità a chi ha invece la necessità, seppure temporanea, di un lavoro. In realtà, così come poi chiarito lo stesso assessore ai servizi tecnici del Comune, Franco Odirao, i cantieri per i quali è stato dato il via libera della Regione, attivando i centri per l'impiego, riguardano invece un altro bando. Diversa anche la legge regionale, cui fa riferimento, che risale al 2016, rimasto invece nei cassetti del Dipartimento Lavoro per lungo tempo. Trattasi per esattezza di cantieri servizi ai sensi della legge regionale 3 del 2016, articolo 15. Nel dettaglio si tratta di contratti trimestrali da assegnare a soggetti di età compresa tra i 18 e i 66 anni, per la realizzazione di piccole opere pubbliche comunali. Nel comprensorio ionico etneo i fondi per quest'ultimo bando, del quale si erano perse le speranze, sono stati assegnati ai comuni di Milo, Sant'Alfio e Castiglione di Sicilia. Resta da capire adesso il motivo per cui, in ogni caso, nel 2016 il Comune di Giarre non abbia aderito a quel bando regionale o è stato successivamente escluso e per il quale sono stati stanziati in tutta la Regione Sicilia 85 milioni di euro. L'ultima volta che l'ente comunale ha ottenuto stanziamenti dalla Regione per cantieri per disoccupati risale al 2011, quando sono state selezionate 126 unità lavorative impegnate in sei distinti interventi di manutenzione, piazze, marciapiedi e numerose aree a verde. Dal Comune intanto fanno sapere che rimane ancora viva la speranza di ottenere gli stanziamenti di un altro bando per il quale, nel marzo scorso, come dicevamo, l'amministrazione ha trasmesso la nota di manifestazione di interesse a un bando della Regione che, per l'appunto, finanzia cantieri di lavoro per disoccupati ai sensi, in questo caso, della legge regionale 17 del 1968. In quest'ultimo caso la somma complessiva da ripartire tra tutti i comuni siciliani che ne hanno fatto richiesta di dimensioni fino a 150 mila abitanti ammonta a 50 milioni di euro.